in questo numero di turismo magazine pnrr 150 milioni per il patrimonio ricettivo a fiumicino tornano i voli diretti roma buenos aires balneari in dieci anni più 25 per cento di imprese avviare un processo di valorizzazione e riqualificazione di immobili turistico ricettivi per rendere più competitivo il settore particolarmente colpito dalla crisi pandemica degli ultimi anni con questo obiettivo parte il bando per la selezione di almeno 12 immobili sul territorio nazionale da acquisire e ristrutturare entro il 31 dicembre 2025 l'operazione avverrà attraverso un fondo immobiliare gestito da cdp immobiliare sgr società del gruppo cassa depositi e prestiti e sottoscritto dal ministero del turismo con l'impiego di 150 milioni di euro di risorse del piano nazionale di riprese e resilienza l'intervento rientra nell'ambito del progetto pnrr che mira la valorizzazione alla competitività e alla tutela del patrimonio turistico ricettivo italiano anche in zone economicamente più svantaggiate o in aree secondarie con questa misura il governo vuole essere vicino agli operatori così da favorire il rilancio del settore ed agevolare la ripresa del turismo afferma il ministro del turismo massimo caravaglia il bando è rivolto a soggetti pubblici e privati proprietari di immobili con la categoria turistico ricettiva o assimilabile che dovranno essere in possesso dei requisiti di donate a il tutta la documentazione richiesta dalla procedura di selezione la presentazione delle domande può avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata entro il prossimo 31 agosto con questa iniziativa inizia un percorso di rilancio che avrà un impatto positivo sull'economia e sull'occupazione soprattutto giovanile commenta l'amministratore delegato di cdp dario scannapieco dopo lo stop imposto dalla pandemia riprendono i collegamenti diretti di aereolineas argentinas tra roma e buenos aires la rotta è operata con gli aeromobili airbus 330 200 con capacità di 265 passeggeri 22 posti in classe business e 243 in economy i voli saranno notturni in entrambi i sensi di percorrenza per favorire le coincidenze sia in partenza che in arrivo a riolineas argentinas tre frequenze settimanali con airbus 330 ma anche ita ita airways la nostra compagnia nazionale che è ripartita qualche giorno fa con cinque frequenze settimanali con 3 50 in generale quindi un momento di grande soddisfazione per noi di ritorno alla serenità e di spinta all'economia dei due paesi spinta occupazionale per l'aeroporto di fiumicino e il suo indotto la ripresa del collegamento con buenos aires è stata celebrata al ghett di partenza del molo e dell'aeroporto di fiumicino alla presenza tra gli altri dell'ambasciatore d'argentina a roma roberto carles un giorno di gioia perché questo ripartenza questo del collegamento diretto tra l'argentina e italia è anche un segno della ripartenza argentina no soprattutto sul piano economico e sarà anche molto importante contribuirà anche al mondo degli affari ai rapporti economici commerciali tra l'argentina e l'italia quindi è un giorno molto speciale siamo molto contenti e anche perché quello che significa per noi aerolines argentinas che la nostra aerolinea di bandiera un orgoglio di tutti gli argentini è la riviera romagnola la culla delle imprese impegnate nelle attività di gestione di stabilimenti balneari 1063 su 7173 al 31 dicembre scorso il 25 per cento in più di dieci anni fa come rivela un'indagine di union camere infocamere ai primi tre posti troviamo ravenna rimini cervia se si aggiungono le 117 imprese di riccione e le 114 di cesenatico i cinque comuni romagnoli rappresentano 730 realtà imprenditoriali il 10,2 per cento del totale nazionale tra le regioni d'italia il secondo posto è occupato dalla toscana con 914 attività distribuite lungo 397 chilometri di costa e la liguria con 807 imprese a presidiare 330 chilometri di litorale le protagoniste della crescita nell'ultimo decennio sono le regioni del sud decisamente lanciate al recupero delle posizioni rispetto al centro nord la crescita più rilevante ha interessato la calabria che ha raddoppiato la dotazione del 2011 seguono la sicilia la campania e la puglia la foto restituita dal registro delle imprese disegna l'identikit di un settore popolato per metà da realtà al di sotto dei 250 mila euro di fatturato un'impresa balneare su quattro è guidata da donne mentre solo il 6 per cento da giovani under 35 una quota inferiore alla media nazionale dell'8,9 per cento